L'idrogeno in realtà è una fonte energetica piuttosto già utilizzata per applicazioni industriali nei settori siderurgico, alimentare, petrolchimico, ma sta iniziando a diffondersi anche nella mobilità. Beh, allora andiamo a vedere come funziona un'auto ad idrogeno. Contrariamente a quello che si pensa, le auto ad idrogeno di oggi non funzionano come un motore a scoppio, cioè non utilizzano l'idrogeno per bruciarlo e quindi generare energia e acqua come prodotto di scarto, perché l'idrogeno quando si lega all'ossigeno produce acqua ed energia. L'energia la prendiamo per far muovere il veicolo e l'acqua la espelliamo. Non funziona così. In realtà le macchine a idrogeno sono delle macchine elettriche. Le moderne auto ad idrogeno sono dotate di una cella combustibile, cosiddette in inglese fuel cell. Sono dei dispositivi in grado di generare energia a partire da idrogeno e ossigeno. Quindi a differenza delle auto elettriche classiche, tipo la Tesla che tutti conosciamo, non hanno una batteria dove noi inseriamo energia elettrica e poi la utilizziamo. Ma hanno queste celle combustibili che generano energia elettrica, immettendo idrogeno. Quindi noi praticamente nella nostra auto andiamo a fare il pieno di idrogeno, così come facciamo il pieno di benzina, diesel, metano, GPL, eccetera, eccetera. E nella cella combustibile ci saranno quelle reazioni che genereranno energia. In Italia oggi esiste una sola stazione di rifornimento di idrogeno e si trova a Bolzano. Quindi insomma se compriamo un'auto ad idrogeno probabilmente rimarremo a piedi perché se stiamo a Bari, a Catania o a Napoli o a Roma non è che possiamo andare a Bolzano. Ovviamente è una tecnologia in divenire, nei prossimi anni ce ne saranno sicuramente di più. Comunque la cosa interessante da dire è che l'idrogeno di questa stazione è verde, cioè è generato a partire da energie rinnovabili. Infatti l'idrogeno può essere anche grigio, nel senso che è prodotto a partire da gas, petrolio, carbone, quindi dal fossile. In questo caso nell'area di Bolzano, grazie all'energia idroelettrica che c'è in abbondanza in quella zona, si riesce a produrre idrogeno verde. Beh, quanto ci costa fare un pieno? Beh, se andiamo a Bolzano lì troveremo l'idrogeno a circa 13 euro a chilogrammo. Ciò significa che per fare un pieno a uno degli ultimi modelli di auto a idrogeno come la Hyundai Nexo o la Toyota Mirai servono circa 70-80 euro. Secondo le case costruttrici, con questi 70-80 euro riusciremo a fare circa 500 chilometri. Certo, diciamocelo, non è proprio economico, ma il vero green costa più del fossile, almeno per ora. Questa piccola clip è basata su un paragrafo, su un piccolo paragrafo del mio libro che sto scrivendo, che ho terminato di scrivere e sarà pubblicato a gennaio 2021. Quindi se siete interessati a cose del genere, quindi energie, fonte energetiche e società, abitudini quotidiane, beh, questo libro potrebbe fare al caso vostro. Intanto vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Io sono Andrea Moccia, questa è Geopop, le scienze della Terra nella vita di tutti i giorni. Ciao! Ciao! Autore dei sorrisi